carissimi ascoltatori di radio smeraldo bentornati in mia compagnia la vostra federica per una nuova intervista oggi avremo con noi un ragazzo un ragazzo che ha partecipato ad un format televisivo che ci è piaciuto tantissimo e che soprattutto seguiamo in una certa maniera soprattutto con un certo trasporto prima di iniziare ci tenevo a ringraziarvi perché il mio ritorno errato vi è piaciuto tantissimo mi avete scritto in tantissimi sul mio instagram e a proposito di social ricordatevi di seguirci sui nostri canali radio smeraldo e di iscrivervi al canale youtube per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre interviste tornando al nostro ospite speciale quindi con grande entusiasmo do il benvenuto a luca gobelli direttamente dal collegio ciao luca ciao ragazzi ciao a tutti allora diciamo un po questa esperienza è stata davvero incredibile mi dicevi no è stata un'esperienza cosa che se posso la vivrei altre cento volte senti ma tu conoscevi già il programma cosa ti aspettavi prima di entrare a far parte del collegio ma io conoscevo a tratti comunque le sorprese sono fatte tante quest'anno e quindi diciamo che lo schemino che avevo in testa non l'abbiamo seguito per niente perché possiamo sapere qualcosina di questo schemino che avevi in testa è perché diciamo che le prime due dizioni che ho visto io sono sempre state uguali ad esempio ci sono state le olimpiadi ci sono stati altre cose comunque erano già programmate e quindi ho detto tra me e me ci sarà anche per me il momento di fare l'olimpiadi dello sport o comunque come altre cose dato che è cambiato praticamente tutto quest'anno e niente questo perfetto moltissime delle tue fan si sono tra virgolette innamorate di questo tuo animo ribelle così particolare no sei stato abbastanza difficile da gestire e ci hai letteralmente incantato ma come è stato rivederti però in televisione una volta che sei tornato a casa vedermi in televisione era tipo un'emozione davvero grande soprattutto per me per la mia famiglia cioè vedermi in suoi due è davvero emozionante poi rivedere tutto quello che è successo a me è sì sì perché sono davvero lì dentro lì con certe persone come se fossero i tuoi fratelli arrivati al punto a condividerci davvero tutto perché entri che non li conosci ed esci che davvero è un legame proprio come io ce l'ho come sorella appunto proprio perché stiamo parlando di questi legami che si sono formati no? con chi conservi i ricordi migliori? quali sono state le persone che veramente ti porterai avanti per tutta la vita? sicuramente Alice De Portoli sicuramente lei perché dato che lei è entrata con me abbiamo super delle difficoltà insieme unendoci sempre di più quindi diciamo che un programma lo devo anche a lei perfetto e c'è qualcosa che... ah dimmi dimmi pure poi non posso che non citare comunque Michael, Mattias, Gabri che è grazie a loro che sono entrato subito nel gruppo e grazie a loro che mi sono divertito tanto quindi devo anche grazie a loro perfetto insomma avete formato un bel gruppo è stato un piacere vedervi in televisione devo essere sincera ci sei piaciuto tantissimo senti ma più che altro insomma una delle domande principali che mi pongo no? che mi sono posta anche guardandomi in televisione noi siamo una società che comunque vive sempre molto a contatto con i social a te quanto sono mancati ma soprattutto in alcuni momenti ti è piaciuto non usarli? hai vissuto meglio un momento magari lontano dai social? allora diciamo che l'allontanamento dal telefono in generale perché non è solo social è il telefono che ti manca lì dentro ed è una cosa che provi per due giorni la mancanza questa mancanza perché poi passa perché tu essendo con venti ragazzi sconosciuti senza il telefono la qualcosa da fare la trovi e quindi di conseguenza arrivate al punto che il telefono te ne sbatti proprio e la cosa brutta la cosa che a me mi è dispiaciuta tantissimo è che una volta finito il tutto una volta che ci hanno arrivato i telefoni tutta questa amicizia questo senso di fratellanza è sparito e sbanito perché erano tutti collegati al telefono e questa cosa davvero a me mi è dispiaciuta davvero tanto quindi è una bella riflessione quella che hai fatto stai lanciando un messaggio bellissimo e giovanissimo io te lo voglio dire eh e spero tanto che in tanti lo capiscono perché davvero se provate a fare anche solo due giorni senza un telefono e se ti entra in casa riuscite ad arrivare a tal punto di legare così tanto come se fosse fratelli e beh insomma se ce lo dice Luca Gobelli ragazzi mi sa che ora che ce ne rendiamo conto io che davvero prima ci passavo le ore al telefono ma le ore seriamente passare a non trovare anche più la voglia di usarlo e di uscire con le persone di parlare con loro ascoltatemi davvero perfetto senti ma cosa ti aspetta adesso dal tuo futuro sei giovanissima hai avuto una bellissima esperienza televisiva ma in realtà cosa vorresti fare da grande da grande da grande che bella domanda che è sinceramente non lo so io sto studiando ho studiato per quattro anni come chimica nei materiali adesso sto studiando come fotografo e mi piace molto la moda mi piace molto il fatto modelli il fatto fashion week e tutte queste cose che mi piacciono davvero tanto quindi spero che un giorno andi dentro quel mondo a divertirmi anch'io io te lo auguro e soprattutto ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia qui su Radio Smeraldo ne approfitto per mandarti un abbraccio grande anche da parte mia vi ringrazio anch'io a voi grazie mille e soprattutto io ne approfitto per farti fare un saluto a tutti i tuoi fan salutali un po' facci sentire ciao ragazzi mi raccomando il telefono per un giorno lasciatelo a casa perché fa bene a voi e fa bene a tutti ciao Luca grazie mille ciao non so se si è notato ma io ero super agitata di fare questa intervista nonostante chi mi segue anche su guan e nolli è consapevole della vita che faccio no insomma faccio un lavoro bellissimo sono super innamorata della mia vita no però fare questa intervista con Luca ero certa che mi avrebbe regalato un po' di emozione no perché sentirsi dire da un ragazzo così giovane che il telefono i social non sono davvero tutto fa sempre un certo effetto no quindi Luca io ti ringrazio ragazzi ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia io sono la vostra fede e vi aspetto alla prossima intervista un bacio grandissimo a tutti i nostri ascoltatori di radio smeraldo ciao 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 ciao